Nuovi aiuti, nuove regole e soprattutto maggiori tutele per i lavoratori agricoli puntando sull'equità sociale. L'agricoltura europea cambia volto dal 1 gennaio 2023 con l'entrata in vigore della nuova politica agricola comunitaria, cercando di contemperare sempre di più la sostenibilità ambientale con quella economica. A illustrare le principali novità della PAC è il parlamentare europeo Paolo De Castro, uno dei massimi esperti del settore. C'è un cambiamento sia della politica degli aiuti diretti, degli aiuti agricoltori, ma anche tutto l'impianto dell'organizzazione comune di mercato, dell'OCM, così come va a cambiare anche il regolamento orizzontale, cioè le forme di pagamento. Diciamo che si è raggiunto un equilibrio, a mio avviso positivo, tra la dimensione economica, cioè gli strumenti per rendere le imprese agricole europee più forti, più resilienti, la dimensione ambientale, perché con gli ecoschemi si rafforzano tutti gli strumenti per aumentare l'impegno di sostenibilità degli agricoltori e anche, questa forse è la novità più interessante per noi, è la dimensione sociale. Viene introdotta questa clausola, la cosiddetta condizionalità sociale, cioè legare gli aiuti della PAC al rispetto delle regole del lavoro. Ed è proprio l'impegno per un'agricoltura più green a richiedere uno sforzo aggiuntivo agli operatori. Gli impegni degli agricoltori per riuscire ad avere le stesse risorse finanziarie che hanno goduto fino ad oggi sono sicuramente più gravosi, più impegnativi e qui è la parte più delicata e più difficile l'implementazione da parte degli stati membri di questi piani strategici che devono mettere in risalto sì gli aspetti ambientali ma senza mai dimenticare le tante novità economiche, i rafforzamenti dei consorsi, il ruolo che devono giocare diciamo le associazioni di produttori per rendere gli agricoltori anche sul lato commerciale più forti sul mercato. La nuova PAC comunque, ancora prima di essere attuata, ha dovuto rimodulare alcune misure a fronte dell'emergenza scaturita dalla guerra in Ucraina. L'obbligo che davamo agli agricoltori di mettere a riposo permanente il 5% della loro superficie. Questo l'abbiamo sospeso per due anni proprio per mettere a cultura più terre, sono circa 4 milioni di ettari in Europa, 200 mila ettari in Italia, che evidentemente vanno ad aumentare la produzione europea in un momento complicato vista l'invasione russa dell'Ucraina. Stiamo parlando di sorgo, mais, di culture che possono in qualche modo essere impegnate, soprattutto nell'estate. Purtroppo la siccità ha anche bloccato questa opportunità, per cui effetti sulla produzione non sono stati notevoli, almeno il primo anno, speriamo il prossimo anno. Apporre l'accento sull'importanza strategica della produzione agricola a livello europeo e dunque su una nuova strategia da seguire da adesso in avanti è il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Vogliamo già lavorare sin da oggi per creare le condizioni perché ciò che oggi sembra certo a livello europeo, che questa sia l'ultima programmazione, invece abbia una continuità, proprio perché a causa anche dello scontro bellico abbiamo capito l'importanza dell'aumentare la capacità produttiva per quanto riguarda il contesto europeo, non come singolo Stato membro, anche, ma a livello europeo. Siamo vicini alla piena capacità produttiva. Oggi l'Europa ha l'85% del proprio fabbisogno in tutte le filiere produttive. Se investiamo in termini di innovazione e di tecnologia potremmo sicuramente arrivare al 100%, ma questo significa rafforzare le nostre filiere e creare quelle condizioni per le quali ovviamente si diano delle risposte concrete ai bisogni delle nostre imprese.